Eccoci, siamo pronti con l'ultimo speech siamo qui con Nicola che ci porterà in questo viaggio per la nuova frontiera degli learning che sono gli experience API e questo speech sarà sperimentale, futuristico ma anche con un pizzico di ironia Benvenuto Nicola, prego Grazie Ilario e benvenuti a tutti grazie di aver scelto questa sessione che spero vi appassionerà Allora, sarà come diceva Ilario una sessione sperimentale nel senso che ho messo dentro in questa sessione un sacco di cose e un sacco di esperimenti che ho fatto in questi anni Sarà una sessione in cui mi metterò alla prova io perché come avete visto ho dovuto attivare diversi dispositivi e provare in questi giorni, anche ieri forse qualcuno di voi mi ha visto che mi aggiravo con degli oggetti strani per fare delle prove, perché comunque non lo voglio nascondere anche se oggi cercherò di far passare la trasparenza della tecnologia all'interno dell'aula la tecnologia c'è e ha le sue complicazioni ha le sue configurazioni importanti da fare per cui sono degli aspetti molto significativi detto questo, la cosa che vorrei fare insieme a voi è anche quello di portarvi dicevo stamattina con Ilario di portarvi lungo la frontiera di Xapi oggi abbiamo un'ora di tempo spero che riuscirò a intrattenervi in maniera adeguata ma vorrei proprio riprendere le promesse di Xapi fatte all'inizio e nel momento della sua creazione e portarle, calarle, aggiornarle ai tempi odierni mi presento, faccio una citazione cinematografica e la farò anche alla fine come ultima cosa come saluto alla conference mi piace dire che sono in missione per conto di Xapi non voglio essere frainteso, blasfemo o poco rispettoso l'idea però è proprio quella di portare la conoscenza di Xapi all'interno di tutti i contesti io sono molto grato a Orci e a tutto il comitato che ha accolto la mia partecipazione con questo speech perché il mio intento è quello di portare in tutte le community, in tutti i contesti in cui ci sono appassionati, ci sono professionisti che si occupano di learning ecco, il mio intento è quello di portare la conoscenza di Xapi e far apprezzare le possibilità che effettivamente ci sono mi considero, come vedete nella scritta verde indipendente, vendor friendly e vendor free non ho niente contro i vendor, anzi lo sono stato per tanti anni ma da due anni a questa parte mi rivolgo a tutta la community in maniera molto più trasparente non devo vendere un qualcosa devo cercare di aiutare le organizzazioni, i professionisti, le aziende a scegliere la modalità più corretta di adottare experience API quindi è un po' questo che faccio e il risultato di questa mia attività è quello che oggi cercherò di mostrarvi ho parlato prima di cinema adesso parlo di teatro oggi mi piace pensare a questo workshop non è proprio una conferenza non è una presentazione non è uno speech tradizionale mi piace considerarlo una sorta di meta presentazione su experience API che cosa intendo? è come quando andiamo a teatro a vedere quegli spettacoli che appunto si chiamano meta teatro in cui il regista, l'autore teatrale ti vogliono far vedere quello che avviene intorno ti vogliono svelare la magia che sta dietro quindi gli attori si rivolgono magari al pubblico si vede quello che avviene dietro le quinte è un po' uno svelare il mistero ma al tempo stesso è anche comunque lo stesso un modo di spiegare e raccontare il teatro e in questo caso un argomento tecnico e difficile come experience API avremo tre ingredienti ho portato tre ingredienti ho scelto questa metafora perché siamo a FICO quindi mi è sembrata corretta come metafora il primo ingrediente sono io ok, io ho messo dentro come vi ho spiegato prima davvero il frutto di tanti anni di sperimentazione in questo ambito con un obiettivo ben preciso non parlarvi di experience API meramente da un punto di vista tecnico farò dei riferimenti tecnici vedremo degli statement purtroppo qualcuno che magari non è così diciamo avvezzo a questi aspetti tecnici però saranno delle cose molto rapide ma soprattutto vorrei che iniziaste da oggi e questo è il mio obiettivo principale io vorrei che usciti di qua quando sentirete di nuovo parlare di experience API non pensaste meramente a uno standard in realtà diventa standard quest'anno ma pensaste alle mille e poi vi dico poco alle mille possibilità che vi può offrire questa tecnologia il secondo invece ingrediente più importante oggi ho partecipato stamattina a un bellissimo workshop in cui abbiamo fatto delle cose insieme senza tecnologia ma solo con la carta e la penna è stato bellissimo ecco io un po' di tecnologia la devo utilizzare però ecco mi piacerebbe veramente che anche voi partecipaste ho scelto in questi giorni due volontari ho parlato con Roberto e Ilario e abbiamo individuato due volontari Paola e Vincenzo se volete venire qua grazie hanno in mano un pulsante è un dispositivo che viene utilizzato nell'ambito della domotica dell'automazione e utilizzeranno durante questa sessione utilizzeranno questo dispositivo per cercare di tracciare cercheremo di tracciare alcune interazioni all'inizio avevo pensato di usare io ho tre pulsanti qua di usare questi tre pulsanti e di trovare un terzo volontario ma poi gli ultimi settimane ho pensato che potesse essere più interessante mostrarvi che anche qua non ci sono regole scritte uno dei tre pulsanti me lo sono preso io perché? perché io faccio formazione come molti di voi faccio aula anche e mi capita ovviamente di sì cercare e avere bisogno del feedback della classe al termine magari dell'aula ci sono tutta una serie di questionari di argomentazioni e di valutazioni da fare però è interessante anche la percezione che ho durante l'aula perché nel momento in cui io faccio l'aula posso avere la percezione di qualcosa che non va qualcosa che ho sbagliato io una malinterpretazione da parte della classe su cui magari devo ragionare perché la voglio evitare la prossima volta quindi ho pensato che anch'io e qua lo vedete nella versione proprio indossabile quindi con una sorta di fascetta ok e lo terrò qua l'idea è anche quella di mostrarvi un qualcosa oggi ho scelto dei dispositivi tra i tanti che utilizzo normalmente ho scelto due dispositivi che mi consentono di parlarvi di una aula tecnologicamente avanzata ma senza schermi questo è un concetto importante come docente e facilitatore all'interno dei workshop mi piace quando la mia classe sta attenta e non è distratta da notifiche di vario tipo il che per amore del cielo è legittimo e a volte capita ed è indispensabile perché viviamo in un flusso senza sosta però l'obiettivo sarebbe quello di avere tutti quindi col telefonino staccato o comunque non costantemente sotto mano quindi l'idea è anche quella di parlarvi di questo e uno dice ma caspita ma senza telefonino senza dispositivi tecnologici come faccio io? allora questi dispositivi che sono dei dispositivi indossabili che sono dei dispositivi che usate voi ma uso anch'io ma in maniera molto trasparente leggera non invasiva ci consentiranno comunque di raccogliere delle informazioni su quello che avviene all'interno dell'aula e io penso questa è la mia esperienza ma mi piacerebbe poi anche avere un vostro feedback a riguardo l'aula ho scelto l'aula ecco altro sforzo che vi chiedo di fare oggi parliamo di aula perché ho dovuto scegliere un tema e ho dovuto scegliere un contesto in cui calare questa tecnologia ma possiamo benissimo utilizzare le tecniche e le metodologie che vi mostro oggi anche in altri contesti dentro una fabbrica per fare l'addestramento sul lavoro in un'attività di coaching one to one magari all'interno di un negozio dove il coach osserva il venditore che è in fase di addestramento per esempio è una cosa che mi è capitata di fare ecco l'osservazione da parte del docente coach trainer e il feedback che arriva direttamente da voi immaginate queste due dinamiche tra l'altro questo significa tornare veramente alle origini di experience API che mette all'interno e al centro della formazione e dell'attracciamento della formazione mette proprio le persone non gli oggetti didattici le persone e quindi mi è sembrato particolarmente significativo l'utilizzo di questa tecnologia un'altra cosa interessante è farvi vedere che anche qui non ci sono regole qua vedete che questo dispositivo può fare tre cose un click e io vado a tracciare una determinata interazione quindi mando uno statement di un certo tipo io ho scelto adesso un like generico l'argomento che sta trattando Nicola in questo momento mi piace faccio un like doppio click di tutte le cose che sta dicendo o tra le tante cose che sta dicendo Nicola quella in particolare mi ha veramente colpito la vorrei mettere tra i miei favoriti tra i miei preferiti sicuramente sono sono certo alcune cose che dirò non vi saranno chiarissime un po' perché sono complesse un po' perché magari non sono sempre bravo a spiegare in maniera sufficientemente chiara tutto e allora in questo caso mi interessa sapere magari da chi partecipa a una mia lezione che in quel caso richiede il discente richiede un aiuto un approfondimento un qualcosa di particolare ok voi immaginate al termine della lezione poter vedere dinamicamente quello che è avvenuto e cosa è stato più chiaro e cosa è stato meno chiaro e al tempo stesso anch'io avere poter tracciare alcune sensazioni che ho durante la lezione o durante il workshop non è obbligatorio se Paola e Vincenzo decideranno che non c'è niente che gli piace che non c'è niente potranno farlo è una tecnologia che vuole essere non invasiva non ti sto obbligando te lo do c'è lì non ti costa niente lo tieni lì in mano oppure te lo metti qua non costa fatica perché siamo a una conferenza e comunque volevo dare la possibilità a tutti eventualmente di fare qualche interazione ho creato un hashtag che è hashtag doctor xAPI sembra un po' come dire da film horror l'idea è un po' quella di darvi la possibilità se volete di fare qualche domanda e vi risponderò durante questa sessione ma anche successivamente quindi senza alcun problema il terzo ingrediente che già comunque ho inserito e mostrato all'interno di questa premessa che sto facendo è la tecnologia qua senza entrare troppo nel dettaglio però cercando di dare anche a quelli più esperti una così un'idea di quello che c'è dietro perché ripeto c'è della preparazione e c'è una configurazione che è indispensabile ci sono degli oggetti io li chiamo smart tools i pulsanti qua c'è un un cubo che adesso vedrete entrare in azione poi ci sono io lo chiamo il tracking layer cioè è uno strato che gira intorno a tutti questi oggetti e che consente di automatizzare i processi che sono collegati a questi oggetti stessi e fare in modo che trasmettano traducano il tracciamento che loro fanno e loro lo fanno senza in maniera tra virgolette ingenua lo tracciano e trasformare questo tracciamento in statement xAPI che vengono ovviamente inviati a un LRS a un endpoint OC Group mi ha gentilmente fornito un endpoint dedicato a questo a questa demo e eventualmente non è non abbiamo tempo di vederlo oggi ma una volta che sono all'interno del LRS possono essere alcune di queste informazioni magari non tutte alcune di queste informazioni possono essere comunque integrate all'interno del reporting di Ilias questo questa overview per dirvi è della speranza rispetto a questo mio intervento che vi venga voglia di provare a sperimentare qualcosa che non sia il mero caricamento di un oggetto CMY5 che è buonissimo io sono un fan del CMY5 però possiamo anche provare e assolutamente Ilias è diciamo sta lavorando molto su questo fronte si può fare ancora di più utilizzando dispositivi applicativi esterni per poi riportare all'interno alcuni elementi questa grande premessa che la faccio perché è una meta presentazione è un meta teatro è quel pre-briefing che mi ha concesso di spiegarvi quello che faremo quello che è il significato le parti in verde sono otto capitoli che affronterò ci sono contenuti interessanti in questi otto capitoli sì penso di sì trattano XAPI in maniera penso interessante però in realtà sono un oggetto che ci servono a fare un po' di sperimentazione per cui e qua viene il secondo oggetto abbiamo un cubo a otto facce e qua il motivo per cui ho mostrato otto capitoli che mi consentiranno di volta in volta mano a mano che andiamo avanti di andare a modificare l'argomento che io sto trattando durante l'aula in questo modo se Vincenzo e Paola vorranno interagire con me e io stesso vorrò interagire non farà un'interazione generica su lo speech di Nicola alla Ilias Conference sarà un riferimento specifico a quel particolare capitolo e quella particolare parte della presentazione ok quindi questo doppio utilizzo il docente ha il cubo e anche uno di questi e loro e i partecipanti hanno questi lo vediamo qua vedete vicino ai pulsantini c'è un accrocchio bianco che adesso è qua è una sorta di hub che consente di collegare potenzialmente fino a 65 dispositivi sono dei dispositivi bluetooth ovviamente un telefono o un dispositivo normale non sarebbe in grado di gestirne così tanti questo hub invece si usando più di un hub potenzialmente è possibile coprire anche una sala conferenze con centinaia di persone questo per dirvi che è possibile anche utilizzarlo in questa in questa maniera benissimo io adesso faccio che giro il primo cubo mi sono segnato delle lettere dei numeri per non sbagliare e in questo modo adesso io sto controllando effettivamente sta registrando che sono passato a parlare del primo capitolo le promesse di Xapi prima parte perché poi lo riprendo alla fine quando ho iniziato ad appassionarmi l'ho fatto dopo aver assistito a una conferenza a Milano nel 2013 in cui avevo avuto la possibilità di ascoltare due presentazioni la prima era di Mike Rastici che arrivava ad annunciare a Milano il rilascio della prima versione di Experience API e fece questa presentazione bellissima che si chiamava The Language of Action e che sinceramente mi aveva colpito molto perché paragonava la proposizione di Experience API alle più grandi invenzioni o comunque ai più grandi cambiamenti tecnologici della storia lo motivava ovviamente spiegava c'è anche una metafora bellissima dell'invenzione delle fognature che è stata per l'umanità una cosa incredibile lui diceva fondamentalmente noi stiamo costruendo delle tubature più performanti per far passare le informazioni relative al modo con cui apprendiamo e al modo con cui possiamo migliorare la seconda presentazione che mi aveva colpito questa era bellissima anche in termini proprio di comunicazione non solo da un punto di vista tecnico era quella di Aaron Silvers che era API with no name perché all'epoca c'era ancora un po' di polemica alcuni lo chiamavano Think Can API alcuni lo chiamavano Experience API insomma c'era un po' di atriba ma la cosa bella di questa presentazione tra l'altro se mi mi twittate su sull'hashtag di Twitter vi rimando anche il link poi troverete poi anche il link delle due presentazioni che sono molto interessanti comunque potete cercarli anche su internet sono a disposizione attenzione Silvers diceva una cosa disse una cosa che mi colpì tantissimo quando è subentrato è subentrata la necessità di andare oltre a scorm e questo già nel 2011 se non prima nel 2010 le persone che si erano messe intorno a un tavolo per cercare di capire come affrontare questa sfida lo fecero con una fortissima motivazione di fare un cambiamento di paradigma epocale non semplicemente di cambiare la lingua con un restyling leggero io lo dico sempre usare experience api non dovrebbe essere semplicemente cambiare lingua prima usavo l'inglese adesso decido di usare il francese perché mi apre dei mercati diversi no è come una roba completamente diversa è una lingua che si basa su dei paradigmi completamente diversi dalla lingua precedente quindi mi piace oggi a distanza di tanti anni ribadire questo era lo spirito di experience api questo lo spirito segnato nelle presentazioni di Mike Rastici e di Aaron Silvers vedete qua c'è il cubo che indica a che punto siamo le promesse che avevano fatto e che erano anche il il modo con cui veniva comunicato proprio a livello anche di marketing experience api era una totale libertà libertà di tutto di tracciare qualsiasi cosa di trasmettere queste esperienze da un sistema a un altro di usare qualsiasi tipo di dispositivo di iniziare su un dispositivo e poi di finire su un altro senza problemi la narrativa che veniva utilizzata era una narrativa veramente di un salto epocale io all'epoca ci ho creduto in maniera ingenua anche e naif se volete ma ho detto questa è una rivoluzione è una vera rivoluzione e mi sono lanciato a capofitto in questo mondo un mondo che ha lasciato morti e feriti però perché è un po' come raccontava Aaron Silvers e il mondo dell'industria dell'e-learning è comunque un'industria molto bella ma anche molto dura molto competitiva ci sono prodotti aziende che nascono e dopo muoiono perché arriva quello più bravo o il pistolero più veloce ma oggi non voglio parlare di questo cambiamo quindi adesso metateatro ho concluso questa parte e vado a posizionarmi perfetto a posizionarmi sulla seconda parte vi ho raccontato gli albori le origini ma adesso voglio darvi un quadro aggiornato dove siamo lo faccio prendendo il meglio avrei bisogno di quattro ore per potervi raccontare tutto quello che c'è dentro questi due report però ci sono dei report interessantissimi fatti da amici e colleghi che si occupano di Experience API Andrew Dones forse uno io lo reputo forse la persona più esperta al mondo di Experience API e Megan Torran sono una grandissima professionista hanno fatto con il loro punto di vista geografico e di mercato hanno fatto comunque un'analisi dello stato di adozione di XAPI perché Paola magari è la prima volta che ne senti parlare di questo standard o comunque una delle prime volte immagina tu avere la possibilità di ascoltare tutte queste promesse e dici caspita ma allora dal giorno dopo chissà quali cambiamenti avverranno in realtà per molti anni non è cambiato quasi nulla l'adozione di XAPI è stata molto lenta un po' forse perché e qua devo dire non c'era molto da fare però è nata come specifica proprio non ancora proprio come standard e diventerà standard quest'anno con la versione 2.0 la specifica è molto precisa consente assolutamente di creare prodotti servizi e quant'altro però probabilmente mancava ancora un pochino di maturità e di solidità allo standard comunque sia questi sono i dati e quelli che ritengo più interessanti ripeto sono dei report anche questi qua se volete contattatemi mandatemi un tweet e vi vi mando il link il 22% responsabili sviluppo e formazione quindi L&D learning and development non sa che cos'è XAPI ok? questo non dieci anni fa non cioè non otto anni fa ma l'anno scorso ok? questo significa che c'è ancora tanta strada perché è un addetto ai lavori che non conosce che cos'è senza averlo utilizzato semplicemente che cos'è è una bella fetta il 44,9% è comunque interessata ma non ha ancora utilizzato questa tecnologia quindi conosce è interessata gli piacerebbe utilizzarlo ma non ha ancora avuto modo di utilizzarlo rimane alla fine di tutto questo ci sono delle cose delle parti delle fette di torta che non vi sto a raccontare comunque rimane poi un 27,8% che invece ha utilizzato XAPI vabbè devo essere sincero rispetto alla faticosa salita iniziale questo per me che lavoro su questo standard da tanti anni è un bellissimo risultato sono tante il 30% di esperti professionisti del settore che hanno già utilizzato XAPI mi fa ben sperare c'è da dire che la metà non ho messo questo dato ve lo dico io a voce la metà di questo 30% lo ha fatto ancora in maniera sperimentale prototipi progetti pilota e chi più ne ha più ne metta questo significa che non è ancora per il 50% non è ancora diventato qualcosa di consolidato ecco c'è ancora tanta strada da fare torno un secondo indietro un altro elemento molto importante che è venuto fuori da queste da queste ricerche è che comunque l'LMS rimane centrale all'interno dell'infrastruttura e-learning perché ha delle caratteristiche che non possono essere sostituite dall'LRS ma la strada vincente quella che fa sicuramente ben sperare è quella di un LMS che cerca di aprirsi il più possibile all'integrazione con LRS esterni o inglobandoli direttamente o aprendo e offrendo tutta una serie di funzionalità di integrazione di trasmissione dati in modo tale da permettere una di quelle promesse cioè la possibilità di far transitare le informazioni da un sistema ad un altro altra cosa che mi fa ben sperare grossi nomi del settore che finora avevano mostrato un'adozione tiepida dello standard tiepida significa siamo conformi a XAPI ma non è che ci impegniamo tanto adesso si stanno invece impegnando molto di più Articulate l'anno scorso ha rilasciato nell'ultima versione un upgrade in termini di autoring XAPI molto molto importante e altri LMS molto grossi Saba per dirne uno ma molti altri stanno facendo dei rilasci che fanno intuire che stanno puntando molto di più di prima su Experience API e sull'integrazione con GLRS Concludiamo conclusiamo anche questa parte e passiamo alla terza tutto quello che vi ho detto finora vi dovrebbe portare a una riflessione io adesso qua faccio sempre riferimento alla Classroom ma vi prego pensatela in maniera estesa ed estendibile a qualsiasi contesto e a qualsiasi ambito o qualsiasi progetto è solo questione di fantasia e di creatività quello che avete visto qua ma ripeto potrebbe essere utilizzato in altri contesti significa abbracciare l'elemento tecnologico con un po' più di creatività ieri Roberto mi ha colpito molto quando ha parlato che le aziende e gli IT manager devono avere anche un po' di coraggio ok sono d'accordo io in questi anni molte volte ho ricevuto delle risposte guarda bellissimo mi piacerebbe ma non posso permettermi di rischiare perché da un certo punto di vista comprendevo Experience API era un linguaggio ancora molto giovane e maturo però caspita se le aziende non scommettono anche su temi di innovazione tecnologici forti dove andremo non c'è non c'è un superamento di queste di queste cose prima l'intervento prima che mi è piaciuto moltissimo parlava di intelligenza artificiale e io qua faccio un po' di riferimento anche a questo nel senso che io non sono uno sviluppatore ok riesco a mandare statement con un certo con la possibilità di arricchirli e compilarli in maniera diciamo non perfetta di perfetto non c'è niente comunque molto rigorosa pur non essendo e non avendo una formazione da sviluppatore completa mi arrangio qualcosa so però gli strumenti low code o no code che oggi si stanno diffondendo molto non devono non andranno sostituire il lavoro degli sviluppatori ma possono permettere a practitioner facilitatori esperti di provare a lavorare soprattutto in fase di prototipazione in maniera autonoma e di lavorare per un nuovo approccio ai progetti che possa utilizzare Xapi quello che ho con quel sistema tra dispositivi programmi applicativi di automazione Google Drive non sapete quanti cose sono collegate in questo momento ebbene ma potete farlo anche voi non è così difficile anche una persona che non ha appunto mai aperto un editor per fare la programmazione può arrivare anche grazie a questi sistemi a programmare e a lanciare statement un po' dovunque adesso magari è ancora un po' da raffinare ma si arriverà tranquillamente ad avere la capacità di progettare contesti di facilitazione come questo in maniera molto semplice e mi riferisco anche al discorso dell'intelligenza artificiale della presentazione che mi ha preceduto per dire che i profili XAPI si apriranno a un formato JSON molto più strutturato e questo dovrebbe garantire anche in termini di NPL Natural Processing Language di poter tracciare e analizzare anche il contenuto degli statement in modo tale da utilizzare gli statement come dato grezzo da mandare in pasto al machine learning già ci sono delle applicazioni che lavorano in questo senso quindi questo è sicuramente uno degli aspetti più interessanti piattaforme di automazione ne uso tutte quelle che sono a disposizione eventualmente approcciare il concetto di progressive web app sempre anche nell'ottica di una prototipazione rapida io uso ce ne sono migliaia però migliaia no ce ne sono decine di applicativi io uso Glide mi trovo bene ma ce ne sono molte altre si può fare un'applicazione XAPI anche che funzioni in locale senza connessione con poco sforzo per arrivare a prototipare eventualmente un'applicazione XAPI che poi possa essere testata sul campo ed eventualmente poi trasformata in un prodotto in un servizio o in qualcosa di più complesso ho aggiunto questo perché a volte vengo frainteso io non sono un fanatico o un fan del grande fratello non voglio tracciare le persone per controllarle o tracciare le persone con un'ottica negativa io penso che il tracciamento di XAPI serva ad aiutare aziende e organizzazioni a migliorare il modo con cui interagiamo e apprendiamo e lavoriamo detto questo sono consapevole che tra tutte le cose che vi ho fatto vedere è importante mettere sullo stesso piano anche lavorare sui temi di data ethics e data literacy perché comunque sono argomenti molto sensibili e chi lavora su questo fronte deve essere formato anche a riguardo di queste tematiche metateatro e passiamo alla quarta molto bene qui ho messo una scatola degli attrezzi io costantemente aggiungo attrezzi a questa scatola lo strumento che vedete lì che sto usando quello dei cubi serve per il tracciamento della produttività personale i dispositivi lì i pulsantini servono per l'automazione la home automation quello là che vedete qua sopra questo il terzo è un oggetto che ho già ordinato ma era in crowdfunding per cui arriverà a breve è fatto sempre dagli stessi dei pulsantini ed è un oggetto che ha una rotella che ha al centro lo stesso meccanismo dei pulsantini quindi click doppio click e hold ok hold significa una pressione un po' più lunga 3 secondi però ha una rotella a 12 raggi e io quando lo serve ovviamente per controllare all'interno di una casa la luce del salotto il riscaldamento tutto quello che volete ma io me lo sono immaginato dentro l'aula per dirvi che è solo la creatività che dovete aggiungere con questo strumento io potrei avere qua in aggiunta questi potrei avere una rotella che mi consente avendo magari 12 le aule quelle buone di solito si fanno con dei numeri contenuti 12 persone e io potrei girando la rotella andare a registrare qualche cosa di specifico per quella singola persona immaginatela così ma se no questa è un'idea che è venuta a me ma magari a voi ve ne viene in mente un'altra la facilità con cui si possono cambiare queste cose è semplicissima posso passare da un setup per un'aula a un setup per un'altra cosa in un'ora sistemo due o tre configurazioni e sono a posto ok quindi posso cambiare gli argomenti adesso io qua ho inserito negli statement i nomi dei capitoli ma ci metto 5 minuti se domani faccio un'altra lezione cambiano i capitoli ci metto 5 minuti a farlo cioè sono strumenti anche abbastanza semplici da aggiornare c'è anche tutto il tema del senza mani nel senso a mani libere riconoscimento vocale Alexa con le skill è possibile inviare degli statement è molto interessante questa se lo abbiniamo poi al discorso dell'intelligenza artificiale di cui abbiamo parlato prima la cosa diventa molto interessante ci sono poi dei sistemi ancora più evoluti questi vengono utilizzati nel retail e anche nel controllo degli accessi che possono andare a riconoscere non solo dispositivi come quello che vi ho fatto vedere ma anche semplicemente i telefoni o gli smartwatch di alcune persone rilevando anche il movimento qua lo dico potrebbe sembrare tipo il grande fratello però sempre nell'ottica e con lo spirito giusto potrebbero esserci delle situazioni dei contesti posso pensare anche a motivi di sicurezza all'interno di stabilimenti che producono determinate cose insomma ci potrebbero essere delle applicazioni non con fine di controllo ma con fine di miglioramento e di formazione positiva ho qui una metafora musicale adesso che avete visto tutte queste cose avete visto anche quanti oggetti che sto utilizzando è un po' come una sorta di direttore di orchestra ma il learning experience designer questa è una nuova figura io ho messo un alert su linkedin che mi avvisa su tutte le posizioni di lavoro aperte che contengono la parola Xapi o la parola experience API settimana all'inizio ce n'era una ogni tanto tanti anni fa adesso ce ne sono 20 barra 30 la settimana ma di nuove tutte nuove ovviamente richiedono anche scorme lms chi più ne ha più ne metta però però c'è questa figura del learning experience designer che è sempre di più che prescinde da Xapi attenzione questo non è un termine che è nato solo con experience API però sta diventando sempre più integrata questo concetto di learning experience design con quello di Xapi e io qua do proprio quelle che sono delle mie tre consigli non sono presuntuoso non voglio essere presuntuoso tre cose che a me sono servite e che mi sono segnato e che su cui devo migliorare ancora e su cui ancora sto studiando l'uso appunto di strumenti low code o no code migliorarlo ulteriormente lavorare in maniera rigorosa sulla data governance declinata nell'ambito experience API Xapi governance perché se inizieremo come spero tutti a utilizzare experience API con dati che arriveranno da tutte le parti ci dovrà essere il vigile all'interno di ogni organizzazione che detta le regole e controlla che tutto vada per il meglio e quindi è una competenza una cosa da sviluppare in maniera molto attenta alla luce anche del rilascio della versione 2.0 e del profile server ritengo che un learning experience designer debba saper progettare definire in tutte le sue specifiche in tutte le sue proprietà uno statement e anche non adesso fra un po' anche un profile ovviamente non è che tutto subito gradualmente però l'obiettivo secondo me di chi vuole lavorare in ambito XAPI in maniera ricca e approfondita dovrebbe essere quello di raggiungere quel livello lì ne parlavo forse con Caterina mi sembra non sono certo mi sembra di sì people first l'ho detto prima riportiamo al centro le persone assolutamente d'accordo però io ho qua una cosa che mi porto dietro da qualche anno tanti in questi anni cercando di proporre XAPI nelle varie forme spesso volentieri mi sono imbattuto in progetti IoT industria 4.0 chiamatela come volete però mi capitava magari con ruoli diversi di affrontare di approcciare questo genere e c'era sempre l'esperto di industria 4.0 di IoT eccetera eccetera e quando gli sottoponevo la possibilità di utilizzare XAPI per tracciare anche l'interazione macchina-uomo e uomo-macchina e macchina-macchina mi diceva no ma noi salviamo i dati già in un certo modo non c'è bisogno non ci serve cosa ci serve a fare e invece secondo me e qua vi voglio far vedere una cosa sottovalutata tanto sottovalutata è una mia battaglia personale prendetela uno sfogo addirittura faccio il doppio tengo tanto faccio proprio un bookmarker di questo di questo aspetto perché perché la specifica indica chiaramente che l'attore dell'esperienza che viene registrata può essere tranquillamente un sistema una macchina ormai industria 4.0 significa che sono delle macchine intelligenti in questo modo io potrei tracciare l'interazione tra uomo macchina Nicola accende la fresa ma anche l'interazione macchina uomo la fresa ha inviato un allarme ok ma anche macchina macchina la fresa ha attivato il sensore o la campanella d'allarme oppure l'allarme incendio insomma poter tracciare con un linguaggio che è interoperabile cioè posso passare da un LMS da un LRS al sistema informatico della macchina e viceversa ma una volta che li porto dentro nella pancia del mio strumento di analisi lo posso utilizzare e ho i dati che parlano la stessa lingua secondo me è una cosa bellissima e questo elemento è un elemento poco conosciuto qui mi hanno insegnato che bisognava durante le presentazioni ogni tanto fare anche dei riferimenti delle storie un po' di storytelling personale questo veramente è successo ho due bambine e la sera leggo storie come penso tutti i genitori fanno mi piacciono molto io sono una grande passione per gli elementi visuali e mi sono sempre piaciuti i Wimmelbook spero di pronunciarlo bene vista la platea e il contesto sono questi libri che mostrano delle scene di città di lavoro di scuola di divertimento di natura di qualsiasi tipo e i bambini grazie a queste immagini sviluppano osservano chiedono capiscono riconoscono gli oggetti gli animali le persone ti fanno domande è bellissimo è una cosa incredibile e ho pensato mentre lo guardavo mentre guardavo mia figlia piccola che diceva e mi chiedeva cosa sta facendo questo mino perché fa così perché fa cosà che questo è un modo bellissimo per esercitarci nella creazione nel design di statement anche qua faccio un doppio clic nel design di statement di un certo tipo perché voi osservate e vi chiedo di trovare quanti più statement possibili statement nella forma semplice attore verbo oggetto se guardiamo c'è operaio che usa una specie di scopa di legno piuttosto che bambino che passeggia col gelato insomma qualsiasi cosa descrivere queste cose vi aiuta e tradurle in statement vi aiuta a esercitarvi in questo senso dopo questo è uno dei tanti esercizi che faccio fare nella mia attività di formazione dopo passo a farvi fare delle foto nei contesti in cui lavorate voi fate le foto di persone che lavorano all'interno della vostra organizzazione magari dell'ufficio da lontano della dell'azienda della sala produzione e dopo cercate di fare la stessa cosa andando a individuare le esperienze e andandole a tradurre esercitando andandovi proprio a cercare il verbo giusto l'oggetto giusto a ragionare se è meglio tracciarlo come gruppo o come singola attività se devo mettere anche qualche altra informazione dopo si può si sofisticano queste cose è un primo approccio che vi aiuta fortemente a sviluppare questo questo elemento non trovavo l'ultima faccia del 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 dado riprendo riprendo la le promesse di Xabi forse lo avete capito erano state fatte delle promesse roboanti non è che sono state tutte confermate adesso sta migliorando molto l'adozione e quindi ci sono ottime possibilità ma è una sorta di rilancio di queste promesse quelle che voglio fare oggi insieme a voi la specifica diventa standard quest'anno spero è annunciato già prima infatti io pensavo di venire qua a settembre annunciando ma è stato rimandato perché è un processo abbastanza lungo la versione 2.0.0 di Xabi la cosa positiva non cambierà tanto verranno irrigidite verranno irrigidite molte alcuni aspetti ma la sostanza della specifica rimane invariata ok viene integrata meglio la comunicazione con il profile server è anche un motivo di questo forse per cui ci stanno mettendo un po' di più non ci si ferma qua experience api in realtà è un tassello che fa parte di uno scenario più ampio total learning architecture io vi invito ad andare a dargli un'occhiata sicuramente molti di voi la conoscono già con la versione 2.0 quel disegno di quell'architettura totale potrebbe diventare realtà non subito ci vorranno probabilmente degli anni o magari no però è una di quelle promesse io penso che bisogna vivere anche con degli obiettivi aspirazionali che ci portano a migliorare io personalmente non posso dire che ho realizzato tutto quello che immaginavo avrei realizzato quella calda giornata di luglio a Milano la ero proprio esaltato spacchiamo il mondo è incredibile però nonostante non si sia avverato questa cosa qua devo dire che mi ha aiutato a trovare una strada all'interno di questa community e a fare a migliorare personalmente il mio approccio alla formazione e alla progettazione di progetti e-learning ora chiudiamo momentaneamente adesso esco un secondo vediamo se riesco a ok vedete che c'è un elenco alcuni dei diciamo delle automazioni sono istantanee ok quindi nel momento in cui schiacciate il pulsante viene registrato subito altre ci mettono un po' di più perché il passaggio dal cubo allo statement richiede magari due o tre passaggi quindi giro il cubo aggiorno un file quell'altro mi richiama un altro comando e poi viene sparato lo statement ad oggi bisogna utilizzare più di uno strumento per poter fare queste cose però prospetticamente secondo me si arriverà ad avere magari un unico strumento di automazione barra no code o low code personalmente ho individuato e lo sto ancora provando si chiama retool qualcosa che funge un po' da automazione e un po' da low code e si fanno delle cose interessanti qua ad esempio vediamo che Vincenzo ha registrato un like diciamo ha mostrato un like direttamente rispetto al topic della ultima parte quindi quella che abbiamo appena concluso e se io vado indietro Paola Lorenzi la stessa cosa ecco adesso vado a vedere se anche i miei eccolo qua e mentre vediamo un po' qua ecco qua quando ho fatto il doppio click ho fatto il Vimebook ok quella parte lì che cosa significa significa che io posso andare a tracciare quello che avviene nell'aula io adesso questa è una sessione abbastanza impegnativa nel senso una platea di professionisti quindi c'è anche una certa tensione in un'aula è tutto un po' più così semplice mi potete anche fermare se tu mi chiedi un approfondimento mi fermo e te lo do subito però vedete che dopo immaginate un HR manager che mi ha commissionato un'aula e gli restituisco non solo la presenza non solo il sondaggio di gradimento finale tutte cose positive e ottime ma anche effettivamente una timeline di quello che avviene all'interno dell'aula e io posso io posso capire esattamente cosa ha funzionato della mia aula e cosa meno e su questo posso iniziare a lavorare questa è un'aula ma se fosse stata una sessione di lavoro io posso Paola sei una coach tu immagina di poter fare di queste sessioni in cui tu valuti o comunque segni alcune cose e anche loro io che sto vendendo a un cliente come mi hai insegnato tu io ti dico guarda sto facendo come mi hai detto tu ma ti sto tenendo schiacciato il pulsante perché mi sento in difficoltà nel farlo e tu allora sai che quella fase lì non è ancora matura la persona devi lavorarci ancora perché se si sente in difficoltà in quel momento vuol dire che non va e io questo è un esempio ma potrei farne molti altri quindi imparare a utilizzare questo ah scusate l'altra cosa che faceva il cubo non era solo girare e cambiare l'argomento ma è indicare con del timestamp precisi il momento in cui inizio un capitolo e il momento in cui lo finisco il che significa anche non solo avere quindi un ragionamento in termini di gradimento dei capitoli barra delle sessioni ma anche di capire la durata dopo io guarderò sono curioso l'ho provata questa presentazione ma sono curioso di vedere live quanto ho sforato nelle varie parti o su quale mi sono soffermato di più torno momentaneamente alla presentazione per tirare le somme ripeto non pensate a questi come possono essere solo i capitoli di una presentazione possono essere qualsiasi cosa spaccate un vostro processo che vi sta a cuore in fasi e poi le analizziamo facendo una matrice con le persone che ecco stamattina si parlava di people tpp tpp tecnologia people e processes ecco questa è la matrice sto semplificando però effettivamente se attraverso quel modello riusciamo a ricondurre molte delle situazioni dei contesti organizzativi che viviamo in questo momento questo è un modo che ci consente di acquisire insight quindi informazioni consapevolezza su quello che avviene e posso dare dei ruoli diversi tracciare delle cose diverse in base che uno sia senior o junior discente o docente e poi posso settare in base al dispositivo che ho n n esperienze qua avevo tre pulsanti tre tipi di click e allora ho scelto tre su quella rotella ne avrò dodici anzi dodici per tre ne avrò trentasei paradossalmente è ovvio che dopo diventa una roba che devi diventare veramente un mago però è possibile e alcune cose possono essere anche automatizzate se carico un documento lo posso tracciare ma senza bisogno che nessuno insapi senza bisogno che nessuno faccia niente per questo vi saluto ovviamente mi metto a disposizione di eventuali domande questo inverno lancerò oltre a quel canale tweet su Dr. Xapi anche un nuovo corso su Xapi che uscirà a fine ottobre quindi è una novità per la mia proposta formativa e vi lascio sperando e ringraziando ancora Ilario Roberto e tutta la community sperando di ritrovarci l'anno prossimo e l'anno prossimo probabilmente qualcuno di voi mi chiederà ma allora a che percentuale di adozione siamo arrivati abbiamo sfondato con Xapi o no probabilmente dovrò diciamo accampare un po' di scuse come back for the cleaners an old friend came in from out of town someone stole grazie grazie mille nicola è stato naturalmente estremamente interessante questo è un tema super attuale nella formazione cercare di sganciarsi dal tracciamento solo del risultato finale tralasciando tutta la parte di tracciamento della formazione del vero apprendimento delle persone che sono poi le attività seppure chiaramente per questioni anche di gdpr e del rispetto dei dati personali vanno messi giusti paletti contestualizzato il tutto grazie ancora è stato super interessante se qualcuno ha qualche domanda partiamo con roberto innanzitutto un'affermazione che mi fai continuare ad aver voglia di lavorare invece io vorrei smettere perché veramente queste tematiche stimolano la creatività in maniera incredibile mi è piaciuto molto il fatto che tu non hai esplicitato più di tanto come le persone avrebbero dovuto come vincenzo e paolo avrebbero dovuto premere il pulsante cioè l'hai lasciato fra le righe però sia vincenzo che ha una mentalità da programmatore che paola hanno capito e questo secondo me dimostra che l'interazione con un oggetto ti porta automaticamente a un'attenzione superiore non so se vuoi commentare assolutamente stamattina nell'intervento proprio tpp ha parlato proprio di questo cioè l'utilizzo di un oggetto che non è un telefonino che non è uno smartwatch che non è consente di concentrarti io sono un fan del figital cioè di dispositivi che abbiano una capacità di interagire tecnologicamente ma che lo facciano con un basso livello di impatto sull'attenzione e quindi questi secondo me paola e vincenzo magari lo confermeranno sono facili da usare paradossalmente nel corso di questa sperimentazione io devo dire che questo del cubo invece è un po meno maturo di questi infatti sono un aspetto con ansia quella rotella perché è fatta dagli stessi del pulsante so già che sarà bellissima e sostituirò sicuramente il cubo lo userò per altre cose per altre dimostrazioni però è proprio importante andare secondo me in questa direzione e c'è stato un momento tanti anni fa che mi era venuto voglia di lanciarmi in questa iniziativa pensando di fare degli oggetti per la formazione XAPI non con gli schermi senza gli schermi quindi oggetti di diverso tipo poi però già era difficile fare un progetto tradizionale XAPI ho pensato che era meglio aspettare magari più avanti d'altronde Roberto dove vuoi andare ovvio che devi lavorare ah sì sì Roberto ti vogliamo qualcun altro o qualche altra domanda ottimo allora grazie ancora grazie a tutti